Anche in Italia è disponibile il primo ed unico trattamento ad oggi per la vitiligine. Parliamo di Ruxolitinib, un farmaco che ha grandi prospettive di applicazione per questa patologia e di cui se ne discute anche durante la 98esima edizione del congresso nazionale della SIDEMAST. Cerchiamo di capire meglio come funziona e cosa potrà portare appunto per coprire i bisogni insoddisfatti dei pazienti con il professor Angelo Valerio Marzano. Professore, in contemporanea a questa edizione del congresso c'è appunto l'arrivo e la rimborsabilità del primo e unico trattamento per la vitiligine. Ci racconta qualcosa di più? Sì, con grande piacere. Questa è la prima target therapy come viene definita, cioè il primo trattamento selettivo per curare la malattia vitiligine, che è una malattia autoimmunitaria che ha una via principale patogenetica che è quella Jackstat cosiddetta. La via Jackstat è quella che media appunto la distruzione di melanociti e quindi crea la malattia che sono, come ben sapete, delle macchie bianche in diverse parti del corpo. Questa terapia è mirata e selettiva perché va a colpire proprio questo meccanismo. Si tratta di un Jack inibitore, quindi un farmaco in grado di interferire proprio con questa via che porta alla formazione della malattia. È un inibitore di Jack1 e Jack2, perché i Jack sono più di uno, ed è una formulazione in crema, quindi un trattamento selettivo anche molto interessante per il profilo di sicurezza, perché trattandosi di una crema è sicuramente migliore rispetto ai Jack inibitori ad uso orale. Va applicata due volte al giorno ed è stata ottenuta, proprio come diceva correttamente lei, la rimborsabilità freschissima, la comparsa in gazzetta della rimborsabilità, per i pazienti con vitiligine cosiddetta non segmentale, quindi la forma più comune di vitiligine e con soggetti che abbiano, in soggetti che abbiano coinvolgimento del volto da parte della vitiligine e una percentuale di superficie corporea, cioè di BSA coinvolta dalla malattia, che oscilla dallo 0,5 al 10%. Chiaramente se la percentuale è maggiore, comunque il paziente può essere trattato usando il farmaco fino al 10% della superficie corporea interessata della malattia. Ci sono stati due studi registrativi, due trial registrativi controllati, il lavoro è stato pubblicato sull'England Journal of Medicine, quindi sulla rivista Top al mondo, e il farmaco è risultato molto interessante dal punto di vista di quello che era l'obiettivo primario, come si suol dire, cioè il cosiddetto facial vasi 75, cioè l'ottenimento di una riduzione del 75% della superficie interessata da vitiligine rispetto alla condizione basale, al baseline. Ecco, praticamente una percentuale del 30% di pazienti ha ottenuto questo risultato dopo 24 settimane, ma andiamo a oltre il 50% dei soggetti alla 52esima settimana. Da qui scaturisce un aspetto molto importante, quello che il paziente va sensibilizzato sulla necessità di non interrompere il trattamento, di andare avanti, perché i risultati in termini di risposta clinica, cioè di repigmentazione della pelle, possono essere risultati che non si ottengono precocemente. Noi questo lo sapevamo già con gli altri trattamenti della vitiligine, a maggior ragione, ecco, in questo caso bisogna insistere su questo, cioè il paziente deve sapere che deve avere pazienza sostanzialmente. Un altro obiettivo ancora più ambizioso è il cosiddetto facial vasi 90, che in pratica è una reclimentazione pressoché completa del volto, e ecco che si ottiene una percentuale lievemente inferiore a quella che ho appena detto per il facial vasi 75, dopo 52 settimane, a maggior ragione, gli studi sono stati condotti fino a 104 settimane, quindi due anni, ecco, con veramente dei risultati molto molto interessanti. Lei diceva giustamente profilo di sicurezza. E' ottimo perché è una crema, sostanzialmente, è una crema che si applica due volte al giorno, quindi il paziente ancora una volta deve essere paziente, appunto, e ottima sicurezza nel senso che i giacchi inibitori hanno degli alert dell'uso orale, anche questi in buona parte rivisti, ecco, ma diciamo l'uso in crema fa sì che ci sia una penetrazione del prodotto che garantisce l'efficacia terapeutica, ma si associa ad una sicurezza, ad un profilo di sicurezza assolutamente eccellente. Non sono stati segnalati negli studi registrativi effetti collaterali importanti, sistemici, ma solo, e peraltro è una percentuale intorno al 5-6% dei soggetti, solo un acne o, per meglio dire, delle follicoliti, cioè dei brufoletti, per intenderci, nella sede di applicazione del prodotto. Ha parlato anche di aderenza del paziente, quanto è importante che ci sia una comunicazione puntuale per fare in modo che l'aderenza sia ottimale? Il paziente deve essere proprio fidelizzato, come si suol dire, bisogna parlare col paziente, tra l'altro sensibilizzarlo sulla patogenesi della malattia, spiegargli che è una malattia autoimmunitaria, che è una malattia che si può associare a comorbidità importanti, in particolare disfunzioni tiroidee, quindi è un paziente che va studiato prima ancora di iniziare il trattamento, tutto questo gli deve essere spiegato, per il trattamento bisogna proprio fargli capire che non esiste un trattamento che agisca rapidamente, che possa essere sospeso. Ecco, questo farmaco, ripeto, è la prima terapia selettiva, a sua volta ha dei tempi lunghi per mostrare la propria efficacia. Magari poi dopo già 12 settimane, 3 mesi, in realtà si vedono già i risultati, ovviamente questo fa contento il paziente, fa contenti noi, però non sempre così, ecco, bisogna far capire al paziente che deve andare avanti, non interrompere il trattamento. Quali erano in fondo le terapie precedenti e cosa cambia con questa nuova terapia? Fino ad oggi avevamo delle armi terapeutiche assolutamente insoddisfacenti, poi certo dei risultati si potevano ottenere con la fototerapia, i cosiddetti narrow band UVB, cioè una particolare banda di raggi, che si usano in tutta una serie di centri, potevano essere utilizzati da soli o più spesso in combinazione con altri tipi di creme, cioè i cortisonici, ecco, potenti come il clobetasolo che ha d'azione potente, o i cosiddetti inibitori della calcineurina, in particolare il tacrolimus, ecco, che tra l'altro era off-label, non era, diciamo, autorizzato per l'utilizzo appunto nella vitiligine, anche qui tempi lunghi e risultati decisamente insoddisfacenti e questo è quanto il medico percepiva, anche uno studio con dei questionari, il cosiddetto studio Valiant, ha documentato come un'elevata percentuale di medici, di dermatologi, ma anche i medici di basi, che magari sono i primi che ricevono il paziente, ritenessero che non ci fossero trattamenti soddisfacenti. E questo veniva trasmesso al paziente, per cui un'elevata percentuale di pazienti riteneva che la propria condizione non fosse trattabile, anche con una qualche ragione, proprio per il fatto che i trattamenti finora esistenti e che ho citato non erano realmente efficaci. Un'altra possibilità era poi di combinare la fototerapia con dei piccoli cicli di cortisone per bocca, anche solo due giorni alla settimana, ma, ripeto, ecco, con dei risultati non soddisfacenti sia in termini di ottenimento della repigmentazione, sia anche nel senso della prevenzione delle recidive quando appunto un trattamento veniva interrotto. Cosa manca ora, professore, inerente a questo farmaco, per rendere ancora più importante il suo utilizzo? Sì, questa è una bella domanda, molto importante per concludere questa piacevole intervista. Manca proprio l'esperienza che noi ci facciamo sul campo, i cosiddetti studi di real life, perché chiaramente il paziente nel trial registrativo è un paziente selezionato. Noi invece nella vita di tutti i giorni ovviamente vediamo diverse tipologie di pazienti e quindi dobbiamo noi farci una nostra esperienza. L'Italia negli studi real life è maestra, quindi l'idea è proprio quello di cominciare ad usare questo farmaco in monoterapia, ma magari anche combinato con la fototerapia, combinato con l'esposizione attente e prudente alla luce solare, e quindi sostanzialmente farci una nostra esperienza e magari raccogliere una casistica italiana studiata bene di pazienti anche per fini pubblicativi, per pubblicare i risultati che ovviamente noi abbiamo come primo obiettivo far contento il paziente, però sicuramente segnalare appunto in letteratura quello che noi otteniamo è un altro aspetto importante.